Sapete che abbiamo mille emergenze, a cominciare da quella Covid, dobbiamo fare i conti anche con una parte di squinternati nel nostro paese, che anziché farsi il vaccino fanno i coltei. Una cosa che non c'entra niente, ne approfitto però, molti suoi colleghi chiedono misure più stringenti per i Novavax, lei che ne pensa? Mi rimane solo il napalm, il lanciafiamme lo abbiamo introdotto, oltre questo, non so che dare.